La canzone si intitola Mistero di Ruggeri, canta Enrico Ruggeri, dirige l'orchestra, il maestro Vittorio Cosma. Con gli occhi bene aperti chiediamo un po' d'amore alla persona che vorremmo fare rimanere e ci facciamo male se la pressione sale, poche parole ci precipita il morale giù. Cos'è che ci trascina fuori dalla macchina? Cos'è che ci fa stare sotto ad un portone? Cosa ci prende? Cosa si fa quando si muore davvero? Mistero. Il gioco si fa dopo e non si può dormire e non sappiamo più decidere se ripartire e batte forte il cuore anche per lo stupore di non capire l'orizzonte che colore ha. Cos'è che ci cattura e tutto ci moltiplica? Cos'è che nella notte fa telefonare? Quando si chiede? Quanto si dà? Quando si ama davvero? Mistero. Abbiamo già rubato, abbiamo già pagato, ma non sappiamo dire quello che sarebbe stato. Ma pace non abbiamo, nemmeno lo vogliamo, nemmeno il tempo di capire che ci siamo già. Cos'è che ancora ci fa vivere le pavole che sono quelle della foto da tenere? Cos'è che cosa si cerca quando ci dà? Quando si ama davvero? Mistero. Sarai sincera, dimmelo, dimmelo, dimmelo. Sarai sincero. In breve mestiere di vivere solo mistero, spero che c'è. Dipende solo da te, prendere la mano è facile. La verità che la vita ti dà è una fredda carezza nel silenzio che c'è. Cos'è che ci trascina fuori dalla macchina? Cos'è che ci fa stare sotto ad un portone? Cosa ci prende? Cosa ci prende? Cosa si fa? Quando si muore davvero? Mistero. Quando si chiede quanto si dà? Quando si ama davvero? Mistero. Che! Grazie. No, no. Annaggia. Vai là. Vai là. Vai là.